Si avvicina uno dei periodi più trafficati dell'anno e per cui vengono poste in essere una serie di attività che hanno la finalità di contenere il fenomeno infortunistico, per cui durante questo periodo aumenteremo la presenza delle pattuglie su strada utilizzando anche quelle a moto montate. Naturalmente utilizzeremo anche altri strumenti che ci consentono appunto di contrastare per esempio l'eccesso di velocità. Questa settimana c'è proprio una campagna specifica sull'utilizzo del telelaser che stiamo utilizzando sia sulla Ragusa Catania che sulla strada permarina. Poi ancora naturalmente contrasteremo alcune condotte come per esempio l'utilizzo del telefonino. In realtà la scorsa settimana è stata fatta una campagna specifica sull'utilizzo del telefonino alla guida. Vorrei ricordare che il codice della strada vieta non solo la telefonata ma anche il semplice maneggio del telefonino e quindi spesso ci sentiamo dire che ma io stavo solo toccando il telefonino, lo stavo solo spostando, anche quello è vietato. E poi naturalmente faremo durante fine settimana utilizzeremo l'alcol test e anche il drug test di cui adesso siamo forniti per fare i controlli lungo le località balneari, nelle zone delle località balneari. Quali sono le infrazioni che è riscontrate maggiormente nella provincia? Si continua a registrare purtroppo ancora un alto tasso di positiva all'alcol test. Questo significa che va fatta forse ancora meglio in ambito... Noi in realtà le campagne con i ragazzi, le campagne di informazione le facciamo nelle scuole. Però talvolta troviamo positiva all'alcol test anche una fascia di giovani che ormai è fuori dall'età scolare e che sono già nel mondo del lavoro. Per cui è un po' più difficile raggiungerli. E allora a questo punto magari occorrerebbe fare delle mirate campagne proprio per informare anche chi è nel mondo del lavoro e renderli adotti di alcuni rischi. Perché talvolta ci sentiamo dire che magari qualcuno non sapeva che tenere una certa condotta era vietata. Grazie a tutti.